Signora, buon dia, potete attendermi? Sì, me lo scusavo Sì, signora Relacionato è veredicto di Hoff a ieri mentre volemo l'ostiavo a trovi perché apparentemente è la cosa più confusione nella comunità Mi chiedo una domanda semplice e mi chiedo a contestare semplice Ok Dio 21 di mei è anche qui Il ministro pubblico ha informato alla comunità via un comunicato di prensa che Steve Martina ha comitato un fatto castigabile Sì, è corretto, no? È corretto, sì A ieri aveva un veredicto di Hoff che mi ha avuto una notazione con la peticione di Carlos Monc e il corso di Nostur per obbligare l'OM a perseguire Steve Martina è corretto, no? È corretto Il ministro pubblico ha chiesto che ha messo in posizione che Steve Martina ha comitato un fatto castigabile o che a ieri e sei tampe a caducare? No, il ministro pubblico ha mantenuto il punto e la mantenuta è la quale è la decidita momento che è la seponera il caso che è sospetto di colpa di manier Martina e per l'ascolto per dunia manier martina è il punto condizionale che mi ha permesso che mi ha detto ripetì Sì, è il caso di vendilante, ma il caso non cambia, e il provare questo punto è che è parato. E che era giusto? Sì, che cosa ha detto? È il culpabile della flaccato. È quello che il Ministero Público pensa che il signor Martina è colpabile del caso, che ha fatto comitare un atto contro l'articolo 21, è che è parato. Sì, allora, grazie per aver guardato. L'articolo 21, in questo caso, è l'articolo. Corretto. Grazie per aver guardato. Ok.